Mi è piaciuto molto il modo di reagire in conferenza stampa di Tiago Motta. Attenzione, l'episodio è clamoroso, io trovo allucinante che l'arbitro non venga richiamato al VAR per una roba del genere. Lo dicevo anche nei primissimi minuti del video di ieri. E se a me una roba del genere non la fischiano a parte invertita, magna invertita, vado giù di testa. Però mi è piaciuto molto di più il modo di approcciarsi a Tiago Motta. Silenzio. Mi piacerebbe, sinceramente, molto di più sentire meno parole, meno interventi, meno anche domande sugli arbitri. E mi piacerebbe vedere gli allenatori che rispondono così, in silenzio, per poi iniziare a parlare della partita di calcio e fare i complimenti ai suoi ragazzi che si sono meritati i complimenti. Buongiorno a tutti, ben ritrovati e come al solito, forza Juventus. Ragazzi, io ieri sera mi sono un po' emozionato, devo dirvi la verità. Ho provato un pelo di emozione, perché quando ho guardato la partita tra Borussia Dortmund e PSG, mi sono tornati alla mente un po' di ricordi. Al di là del fatto che io ve l'ho detto, spero che la Champions quest'anno la possa vincere Terzic, perché veramente la storia di Terzic è romantica. E quel selfie strappato al capitano Alessandro Del Piero, io ce l'ho qui. Sì, queste sono quelle cose che mi fanno rispettare le squadre estere, le squadre che non tifo. E poi sul Borussia Dortmund io, devo dire la verità, ho una certa passione in generale, perché mi è tornato in home grazie a un tweet di Cronache di Spogliatoio, quella che fu la formazione titolare del Dortmund 2012-2013, allenato da Klopp in semifinale di Champions. E mi sono reso conto di sapere a memoria quella formazione, quindi Weidel Feller, Hummels e Subotic come centrali di difesa, Piszczek e Smelzer come Terzini, Bender e Gundogan come mediani, Gozze sulla tre quarti, a destra Brascikowski, a sinistra Marco Reus e davanti Robert Lewandowski, veramente una squadra che sblocca tantissimi ricordi. E sono ricordi anche comunque legati alla Juve, perché la Juve in quegli anni lì ricominciava a vincere. Proprio oggi è l'anniversario, 12 anni, di quel gol che subì Buffon contro il Lecce, gol di Bertolacci con Papera di Gigi Buffon. Io ero allo stadio, mannaggia, fuori dallo stadio respiravamo un'area veramente super depressa, pensavamo di aver perso lo scudetto e poi fortunatamente ci fu il 2-0 contro il Cagliari a Trieste, il derby di Milano dove il Milan riuscì a farci vincere lo scudetto. Erano quegli anni lì, erano quegli anni lì e mi è tornata veramente una nostalgia di quel Borussia Dortmund incredibile. Io spero che la Champions la possa vincere una tra PSG per Mbappé principalmente e appunto Borussia Dortmund, anche perché Real Madrid e Bayern le abbiamo viste vincere troppe volte sinceramente. Quindi io sono per le underdog, a maggior ragione per il Borussia di Terzic che ieri sera veramente mi ha dato delle emozioni fortissime giocare in modo così semplice, anche baciati dalla fortuna con quel doppio palo del PSG. Ne parleremo alle 14 a doppio passo su Bobo TV Channel, quindi vi aspetto su Twitch e dobbiamo invece andare avanti a parlare della nostra Juventus. Un piccolo piccolissimo accenno, quello che è successo ieri con le parole di Moggi. Io ieri vi ho spiegato un po' la mia versione, potete dire sì, ci sta, no, non ci sta. Ho visto che siete combattuti nei commenti, qualcuno la considera ok, qualcun altro no. Però una cosa che non è un'opinione, è un dato di fatto, visto che per tanti non è passata. Ragazzi, Moggi Contatti ce li aveva e ce li ha nel mondo del calcio. Cioè, Moggi non è un semplice tifoso. Non c'entra neanche quello che ha fatto in passato, la radiazione, le sentenze, non c'entra niente. Cioè, Moggi parla e parla con persone che sanno. Poi, non significa che Moggi sia infallibile, ma non venitemi a descrivere Luciano Moggi come un semplice tifoso. Perché è una persona che ha delle conoscenze nel mondo del calcio. Poi può assolutamente dire delle cavolate, su questo non ci piove, ci mancherebbe altro, ma non è un semplice tifoso. Ultima cosa, poi iniziamo il video, che è la seconda parte, andrà a ricalcare il titolo di questo video. Sono uscite le immagini ufficiali anche della terza maglia della Juventus. Quella un po' più scura, con anche un design particolare, un pattern con le J-loghi della Juventus che da vicino sembrano una roba, da lontano mi piace decisamente di più. Non vi farò vedere il video come in occasione della prima maglia. Perché? Perché come potete vedere, il video del 30 aprile, quello in cui si parla dell'inserimento della mina su Diogo Motta, non è più disponibile sul canale. Non l'ho rimosso io, è stato rimosso da YouTube perché sono state violate alcune normative, alcune norme legate al copyright, dove facevo la live reaction a quel canale, mi pare indonesiano, che aveva caricato appunto la prima maglia della Juventus. Quindi quel video è stato eliminato, non farò una live reaction alla terza maglia, per forza di cose, però magari vi metto proprio adesso, qui in sovraimpressione, qualche immagine di quello che dovrebbe essere il pattern, il design, la maglia. Fatemi sapere qui nei commenti se vi piace oppure no. E adesso invece parliamo di Tiago Motta. Un argomento nuovo, no? Inedito. Allora, dato che, ripeto, per me sarà Tiago Motta, poi potrebbe rimanere Allegri, potrebbe arrivare Conte, potrebbe arrivare un Mr. X che sa soltanto Giuntoli. Quindi, ragazzi, fino a che non c'è l'ufficialità, tutto può essere, tutto può essere. In questo momento io penso che Allegri lo è resonerato una volta raggiunta la matematica, l'aritmetica qualificazione della Champions e Tiago Motta verrà annunciato una volta che anche il Bologna saprà di che è morte e morire. Questa è la mia previsione. Giusta, sbagliata? Non lo so, è la mia previsione. La dettata da quello che sto raccogliendo in giro, che sto captando. Quindi, un po' di Tiago Motta bisogna parlarne. Pregi e difetti di Tiago Motta. Questo è il contenuto del video, che dopo un po' di chiacchiere, ma era una cosa che volevo dirvi, riusciamo finalmente a snocciolare, a sviscerare. Io, di cavolate, su YouTube ne ho dette tante in questi quasi dieci anni, quindi vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale, perché tra due settimane, anzi meno, tra dodici giorni, festeggeremo i dieci anni di YouTube. Quindi io, in dieci anni di YouTube, di cavolate, lato calcio ne ho dette tante, continuerò a dirne e quindi voglio aggiungerne un'altra. Tiago Motta, la Juventus. Partiamo da un presupposto. Ogni cosa nel mondo, a maggior ragione nel mondo del calcio, non può essere estremizzata. Ci sono pregi e difetti. Ci sono cose che funzionano e cose che non funzionano. L'importante è poi che questi pregi e difetti portino a una conclusione. La mia conclusione è la seguente. Tiago Motta, la Juventus, per me, oggi è un grande sì. Questa è la conclusione. Non significa che siano tutti pro quelli nei confronti di Tiago Motta, ma sono molti più i pro rispetto ai contro. Poi ci sono delle cose che, sicuramente, andranno snocciolate e analizzate su Tiago Motta. Ed è un po', e devo dirlo con grande chiarezza, la situazione che mi aveva portato a dire sì al ritorno di Allegri, ma al contrario. E vi spiego il perché. Quando si parlava del ritorno di Allegri, io vi dicevo che la necessità della Juventus non era un profilo come quello di Allegri, bensì un profilo come quello di Conte. Perché è una Juventus che aveva in programma di andare a salutare i nomi di copertina, i campioni. Vi do un esempio. Il gol del Real Madrid è confessionato dal contromovimento meraviglioso di Vinicius e quel taglio in profondità, quel passaggio filtrante in verticale dei Toni Kroos. Quella è una giocata che faceva la Juventus quando faceva dei buoni percorsi in Champions. Quindi i giocatori di un certo livello che vanno a mettersi in gioco è tramite veramente delle giocate individuali, perché quel contromovimento di Vinicius è meraviglioso, quel passaggio di Kroos è meraviglioso, quella può essere una situazione sì preparata, ma se quel contromovimento ad attaccare lo spazio non lo sai fare, se quella palla non la sai dare, quella Kroos non viene. Quindi la Juventus dei successi in Champions League, delle serate magiche in Champions League era una roba del genere. Quella di oggi è una Juventus che devi prendere per mano, che devi accompagnare, a cui devi spiegare determinate giocate. Poi possano venire o non venire perché il tasso tecnico è minore. E quindi dicevo, Allegri è l'uomo giusto? No. Però tornava a una figura che aveva vinto tanto con la Juve e io lì Allegri lo avevo oggettivamente sopravvalutato ed è stato un grande errore da parte mia, perché pensavo che Allegri comunque potesse metterci mano. Il risultato poi è quello che stiamo vedendo negli ultimi tre anni. Quindi la mia lettura su comunque Allegri farà qualcosa è stata una lettura sbagliata. Il fatto che Allegri non fosse l'allenatore giusto invece era una lettura giusta. Oggi su Tiago Motta è il contrario. E cioè, Tiago Motta non è uno che ha il palmarès. Ho fatto questo trofeo, quest'altro trofeo, ho vinto qui, ho vinto lì da allenatore. Non ce l'ha. Nel supermarès questa roba non c'è. È evidente. Però la salvezza che ha ottenuto con lo Spezia è stata una salvezza di altissimo livello, ragazzi. E ce la ricordiamo. Perché poi Tiago Motta, ricordo che c'era stato anche un po' di confusione, perché si diceva che una volta ottenuta una salvezza che poteva avere del miracoloso con lo Spezia sarebbero stati obbligati a rinnovare il contratto di Tiago Motta. Cosa che poi non avviene in realtà. Col Genoa troppo poco per valutarlo. Col Bologna è sotto gli occhi di tutti l'impresa. Quindi Spezia e Bologna sono oggettivamente dei capolavori di Tiago Motta da allenatore. Da giocatore Tiago Motta ha giocato in squadre di alto livello. Ha conquistato anche dei trofei internazionali importanti, sia con l'Inter che con il Barcellona, ha vinto la Champions League. Quindi nel suo Palma Resti sono due Champions. Ha giocato con la Nazionale italiana, anche se in un periodo non proprio meraviglioso. Però è un giocatore che si è confrontato spesso e volentieri con realtà di alto livello e quindi è un calciatore che ha un'esperienza internazionale importante, considerando anche il PSG in cui ha concluso la carriera. Quindi sicuramente è uno che caratterialmente si è fatto, è stato plasmato da queste esperienze. Ma soprattutto Tiago Motta è uno che sicuramente rientra più nella categoria di prendo per mano una squadra che dei giocatori di assolutissimo livello da giocare una semifinale di Champions, probabilmente oggi non ce li ha, e provo ad evolverli, provo a migliorarli, provo a metterli in un contesto che funziona per non far sì che l'occasione, il gol, il vantaggio nasca solo dalla giocata di Kroos e Vinicius, ma facendo in modo che con le caratteristiche di Zirzee, con l'attacco alla profondità di Salemecker o la tecnica di Orsolini, possa effettivamente venire fuori qualcosa di buono. Con la volontà di Calafiore di andare in mezzo al campo, di creare virtualmente uno in più, con l'equilibrio che ti dà Froiler. Sono tutte cose che funzionano, perché hai preso i giocatori, hai osservato le loro caratteristiche migliori, e sei andato a migliorare il contesto, in un contesto dove anche tanti giocatori che non sembrano di livello stanno comunque facendo una stagione in Serie A altissima. altissima, tant'è che io leggo tanti tifosi della Juventus che magari vorrebbero la conferma dell'Igri, che prendono in giro Tiago Motta, non rendendosi conto che stiamo parlando del Bologna che lotta per qualificarsi in Champions a quattro giornate dal termine del campionato. E questa è la più grande vittoria per Tiago Motta, perché si mette il Bologna sullo stesso piano della Juventus. Quindi quando si parla di trofei per Tiago Motta, alla voce trofei la carriera di Tiago Motta, allenatore, ancora non può dirci ha vinto, non può farlo. Ma questa cosa qui è una vittoria. La salvezza con l'Ospezia è una vittoria. Tiago Motta da quel punto di vista ha già vinto, perché aveva osservato il contesto in cui lavora. Poi non significa che non potrà vincere. Prima parlavamo della Juventus di Conte, di quell'anno in cui torna a vincere. Conte non aveva mai vinto lo Scudetto. Lo stesso Allegri fino all'anno prima, anche se aveva fatto benissimo col Cagliari, non aveva mai vinto lo Scudetto, senza andare a scomodare i vecchi lippi, eccetera, eccetera, eccetera. Esempi molto più recenti del calcio degli ultimi anni, degli ultimi 15-20 anni. Poi c'è da dire una cosa. Tiago Motta, un conto è allenare l'Ospezia, il Genua, il Bologna, un conto è allenare la Juventus. Ci sono pressioni differenti. Io questa cosa la sposo in pieno, al 100%. Questo significa che non darei una possibilità a Tiago Motta? No. Perché poi va analizzato il lavoro, vanno analizzati i risultati, vanno messi nei contesti, e vanno tirate le righe. Quindi, non significa che Tiago Motta arrivando alla Juventus sarà l'allenatore perfetto, eccetera, eccetera. Però può essere l'uomo giusto, al momento giusto, nel contesto giusto, con una squadra che ha determinati obiettivi. Vuole arrivare lì in quel modo lì. Voglio sfruttare il lavoro della Next Gen, voglio massimizzare i giocatori che sono usciti dalle giovanili, voglio cercare di essere competitivo, voglio cercare di essere una squadra in grado di autosostenersi. Non voglio più dare determinati ingaggi, voglio arrivare a crearmi quei giocatori lì. Senza dimenticare che poi il mercato può essere un'opportunità anche in entrata. Non significa che la Juve non spenderà, significa che la Juve ci penserà due volte prima di spendere, piuttosto che fare quello che ha fatto negli ultimi anni. Allora, a quel punto di vista, l'identikit di Tiago Motta è perfetto. Perché ricalca anche un po' quello che fu il primo Conte. Un allenatore che arriva senza particolari trofei vinti d'allenatore, senza particolare palmarès d'allenatore. Però un allenatore che aveva voglia, fame, e sicuramente un passato importante dal punto di vista proprio del professionista calciatore. Conte, con una carriera passata da Juventus, Tiago Motta, una carriera passata in tanti club, e tutte le volte che passava in quei club era di alto livello, che hanno poi portato, nel caso di Conte, a iniziare un ciclo di scudetti. Nel caso di Motta ce lo auguriamo. Poi, non sarà Tiago Motta, sarà un altro. Nel caso analizzeremo quell'altro. Però il lavoro di questi anni di Tiago Motta, nel suo inizio di percorso, di carriera d'allenatore, non può passare inosservato. Il fatto che non abbia vinto trofei è un qualcosa di cui non deve preoccuparci, è un qualcosa che veramente non deve preoccupare. Assolutamente no. A maggior ragione, se analizziamo il trend del campionato italiano negli ultimi anni. Perché da quando la Juventus si è esonerato Allegri, che aveva concluso quel ciclo di scudetti consecutivi, in Serie hanno vinto. Sarri, che non aveva mai vinto. Conte con l'Inter, che era l'unico che aveva vinto lo scudetto, nel nuovo ciclo di allenatori che poi hanno vinto, perché poi vince Pioli, che non aveva mai vinto. Spalletti, che non aveva mai vinto. Inzaghi, che non aveva mai vinto. Significa che negli ultimi cinque anni hanno vinto lo scudetto quattro allenatori diversi, che non avevano mai vinto lo scudetto prima. E negli ultimi cinque anni cinque allenatori differenti. E negli ultimi sei, sei allenatori differenti. I cui soltanto due avevano vinto lo scudetto prima. Quindi la Serie A sta entrando in una nuova dimensione. Questi allenatori emergenti che stanno venendo fuori in questi anni, non significa che siano tutti bravi, bravissimi, pronti per le big, idonei per le big. Però significa che negli anni in cui venivano fuori gli Spalletti, i Conte, gli Allegri, tutti quegli allenatori che hanno fatto quegli anni lì, i Mazzarri, eccetera, 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 i Murigno, sono arrivati ora a un punto in cui inizia la nuova generazione di allenatori che vedremo nei prossimi anni. I Tiago Motta, l'Italiano, i De Zerbi, secondo me torneranno fuori anche i Dionisi, adesso non me ne vengono in mente tantissimi altri, ma sicuramente avremo a disposizione tanti altri allenatori, i Tudor, che nei prossimi anni, i De Rossi, che nei prossimi anni faranno parlare. E devono soltanto arrivare alla panchina giusta, alla panchina importante. Inizia la nuova generazione di allenatori, inizia il nuovo ciclo per la Juventus, Tiago Motta, corrisponde all'identikit perfetto che ti garantisce di vincere, di tornare a vincere? No, e per un motivo... Non esiste, non esiste l'identikit perfetto di allenatori che ti garantisce la vittoria. Non esiste. Tu devi soltanto analizzare il tuo contesto, quello che hai, quello che vuoi fare, e capire qual è il progetto sportivo giusto. E allora, su Tiago Motta, è logico che mi viene da dire, sì, lo spesse il Bologna, dimensioni di un certo tipo, la Juventus un altro. Ma questo non significa che allora non debba dare la possibilità a Tiago Motta. Sono qui a dirvi, con Tiago Motta la Juve 100% vince lo scudetto? No, ma non c'è un allenatore nel mondo che mi fa dire al 100% l'anno prossimo si fa questo o quest'altro. Hai delle garanzie per avvicinarti a farlo. Per esempio, se prendi Conte, è ovvio che l'idea è quella che per la storia di Antonio Conte si riuscirà a provare a competere da subito. Ma non è scontato. Ha maggior ragione perché Conte ti chiede intanto un ingaggio di un certo tipo e poi degli investimenti per arrivare a quella che è la sua idea. Perché Conte, in questi 12 anni da quando ha fatto vince lo scudetto per la prima volta la Juventus, è diventato un allenatore con un altro status e ha delle altre richieste ed è un allenatore che difficilmente rimane in una squadra per tanti anni. Non lo fa. Abbiamo visto, i suoi cicli durano due o tre anni. Poi qualcosa si rompe e Antonio Conte deve andare via. Deve provare nuove esperienze. Ma tutte le sue esperienze ricalcano lo stesso modello. Ti porto a vincere in pochi anni ma è una cosa che dura poco. Questo è Antonio Conte. Non esiste un allenatore che al 100% ti fa dire vinci, ci sono quelli che ti dicono te lo so iniziare come Conte te lo so proseguire se è partito come Allegri e quelli che sono in rampa di lancio e quindi Tiago Motta è un grande sì perché i pregi sono decisamente più dei difetti. Questa è un po' l'analisi che faccio su Tiago Motta sono curioso di sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti perché è un discorso articolato e anche interessante da sviluppare insieme a quelli che abbiamo analizzato nella prima parte del video. Ciao a tutti ragazzi e forza Juventus.